Gli stessi produttori di per un pugno di dollari dopo un anno di lavoro e uno sforzo produttivo ancora maggiore vi presentano un altro super western. Sette pistole per i McGregor, ancora più violento. Ancora più drammatico, ancora più spietato. Sette pistole per i McGregor, un film scatenato. Un film emozionante, un film spettacolare. Un film differente. Whisky e gloria, un rò per i McGregor. Cerca di non sprecare i colpi con quello che costano. Il colpo era mio e ne faccio quello che voglio. Un film divertente. Sette pistole per i McGregor. È ora di accendere il fuoco. Con un gruppo di attori di fama internazionale. E' un film che gli stessi prodotti. Sette pistole per i McGregor Fila al più presto, se non vuoi che ti dia una lezione Ma io la voglio una lezione Come? Penso che ci sia sempre qualcosa da imparare nella vita E se qualcuno mi vuol dare una lezione, io non dico di no Mi piaci, Gringo Come ti chiami? Gringo, certe volte poche ore valgono più di tutta una vita Sette pistole per i McGregor Con il Santa Fe Espresso Il famoso treno del West che trasportava oro e violenza Sette pistole per i McGregor Sette Western in un solo film Realizzato nei favolosi canyon di Guadix Mai apparsi finora sullo schermo Il famoso treno del West che trasportava oro e violenza Sette ray e rifer vifat bạn Il famoso treno del West che trasportava oro e violenza gira Sette